Supponiamo di dover disegnare in proiezioni ortogonali una figura piana qualsiasi, che appartiene ad un piano parallelo al PO, cioè un piano orizzontale, e che sia inclinata di un certo angolo, 30, 45 o 60 gradi, rispetto agli altri due piani di proiezione PV e PL. In un video precedente, che potete ritrovare all'interno di questo canale YouTube e che consiglio di guardare in modo da comprendere meglio l'argomento di questo video, abbiamo visto come determinare le proiezioni ortogonali di figure piane che appartengono ad un piano parallelo al PO e sono perpendicolari, cioè dritte, rispetto agli altri due piani di proiezione pv e pl. La tavola che ci apprestiamo a svolgere adesso rappresenta uno step successivo rispetto a questo esercizio, se preferite una sua leggera complicazione. Vediamo dunque come realizzarlo, facendo un confronto costante con il caso precedente. Proprio come nel caso precedente, si inizia disegnando le tracce del piano parallelo al PO, su cui deve stare la figura. Come sappiamo, esso ha due sole tracce, quella sul PV e quella sul PL, tracce che si presentano in proiezioni ortogonali come una linea orizzontale. La distanza del piano dalla linea di terra in seconda proiezione ne definisce l'altezza, cioè la distanza che il piano ha rispetto al PO. Questa altezza è la stessa che possiederà anche la figura piana che ci vogliamo disegnare sopra. Potete trovare la trascrizione di questa lezione nel mio blog dedicato al disegno tecnico. Sempre nel blog sono presenti tantissime altre lezioni e tanto materiale didattico da scaricare. L'indirizzo è aliceappunti.altervista.org slash blog. Il link è comunque presente nella descrizione del video. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante. Questo permetterà al canale di crescere e mi darà l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici. Sappiamo che la prima proiezione ortogonale di un qualunque oggetto mostra come esso ci appare visto dall'alto. Una figura piana appartenente ad un piano parallelo al PO dall'alto ci appare così com'è. Quindi nello spazio destinato alla prima proiezione disegneremo la figura piana in vera grandezza. Ma poiché essa deve essere inclinata di un certo angolo rispetto agli altri due piani di proiezione non la disegneremo così com'è. In vera grandezza sì, ma con questa certa inclinazione. Inizieremo dunque disegnando una linea inclinata di un certo angolo, 30, 45 o 60 gradi, rispetto alla linea di terra. Questa inclinazione sarà l'inclinazione che la figura piana possiede rispetto al piano verticale PV. L'angolo che questa stessa linea forma con la retta T' che separa il piano orizzontale da quello laterale, è invece l'inclinazione della figura piana rispetto al piano laterale PL. Se ad esempio la linea disegnata forma un angolo di 60 gradi con il PV, ne formerà uno di 30 gradi con il PL. Quindi stiamo bene attenti agli angoli di inclinazione da assegnare a questa linea. Se però, come spesso accade, l'esercizio richiede solo che la figura sia obliqua rispetto al PV e al PL, senza assegnare valori di angoli precisi, potremo disegnare la linea come più preferiamo. È sufficiente che sia inclinata. A questo punto procediamo a disegnare la figura piana. Se la figura che dobbiamo disegnare è un quadrato o un triangolo, possiamo tracciare a piacere su questa linea il primo lato del poligono e poi posizionare gli altri lati di conseguenza. La stessa cosa faremo se si tratta di un pentagono e per ricavare gli altri lati procederemo con la costruzione del pentagono dato il lato. Spesso può venire chiesto che la figura sia tangente con uno o due vertici a uno o entrambi i piani di proiezione PV e PL. In questo caso basterà posizionare uno degli estremi del primo lato o entrambi sulla linea di terra o su T'I. Se si trattasse di un esagono invece, la costruzione più utilizzata è quella data alla circonferenza circoscritta, cioè la circonferenza dentro cui dovremo tracciare l'esagono. Disegneremo dunque in un punto a piacere la circonferenza, il cui raggio sarà pari al lato dell'esagono. Tracceremo poi uno dei diametri e avremo cura di inclinarlo rispetto al PV e al PL, tanto quanto richiesto dal testo dell'esercizio. A questo punto procederemo attuando la costruzione dell'esagono data la circonferenza circoscritta, costruzione che è stata spiegata nel dettaglio in un precedente video di questo canale YouTube e sulla quale, quindi, noi non ci dilungheremo. Questo ci garantisce di disegnare un esagono con il lato inclinato del giusto angolo. Abbiamo così trovato la prima proiezione ortogonale di una figura piana appartenente ad un piano parallelo al PO, ma inclinata secondo un preciso angolo rispetto al PV e al PL. Chiameremo A' B' C' D' eccetera i punti della figura, che sono le prime proiezioni dei suoi vertici A, B, C, D eccetera. I punti in seconda proiezione si troveranno esattamente come abbiamo visto nel precedente video del canale e che consiglio quindi di andare a riguardare. Possiamo constatare che, nonostante l'inclinazione della figura, in seconda proiezione la figura piana ci appare ancora una volta come una linea orizzontale, posizionata alla stessa altezza del piano parallelo al PO a cui appartiene. Anche la terza proiezione della figura piana si trova molto facilmente, con la stessa procedura vista nel precedente video di questo canale. E proprio come accadeva quando la figura era dritta rispetto ai piani di proiezione, essa ci appare come una linea orizzontale, posizionata sulla terza traccia del piano parallelo al PO a cui appartiene.